Queste persone vengono infiltrate, vengono all'interno del nostro continente Europa e poi svolgono queste azioni di terrorismo, una cosa inaccettabile dove se si importano e ci sono delle persone che devono essere controllate nella loro generalità, avere tutti gli estremi per poter dire se sono persone che vengono qui per cercare di lavorare, per trovare un lavoro o per integrarsi oppure sono dei criminali che vengono qui a tagliar gole. Qui bisogna assolutamente chiudere le frontiere e fare una politica dove dando in mano alla comunità europea e soprattutto alla Merkel deve prendersi la responsabilità di dover decidere e di dover affrontare questo problema che da soli abbiamo dimostrato ampiamente che il governo Renzi non è in grado di affrontare.